Ciao, sono Sofia e domani mattina partirò con Intercultura per trascorrere un anno all'estero, a Houston in Texas. Da questa esperienza spero di tornare più matura e sicuramente più autonoma e frequenterò un liceo di indirizzo musicale e spero di essere accolta calorosamente dalla famiglia e di trovarmi bene. Grazie a tutti e ciao! Grazie a tutti!